un po' di eco nella voce stiamo per chiudere la prima ora un po' di eco nella voce te lo tolgo va tutto bene ragazzi è un po' ansioso è tutto sotto controllo i lavori del futuro domani lavoro hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori ci proiettiamo sempre al pubblico al fare proprio del servizio pubblico cercare di dare notizie utili a chi ci segue in questo caso per i vostri lavori del futuro Andrea scusa volevo sapere se c'è ancora l'eco nella voce no non ce l'hai più prova vai parla ho l'eco nella voce prova Michele Michele ce l'ho quando nomini Michele strano perché poi tutti vorrebbero l'eco c'è una fila di disgiochi di spighe che dicono mi metti un po' di riverbero lui non lo vuole io lo metterei obbligatorio io anche a scuola i professori scuola ok ragazzi attenzione i lavori del futuro ci inventiamo i lavori per voi l'ottimismo giovani giovani vi hanno sempre detto che la vostra pronuncia difettosa dell'inglese vi avrebbe reso la vita difficile la mia sì col greco il polacco siete andati male avete imparato solo a dire ho fame ho fame il francese ti sembra un dialetto pesarese ancora più moscio e lamentoso il russo pensi che sia la lingua della mafia tranquillo non ti preoccupare c'è il lavoro per te catarifrangente semovibile basta con i paletti rigidi messi ai bordi delle strade poco flessibili poco duttili poco necessari a questa società che cambia diventa anche tu un catarifrangente semovibile con 400 ore di corso e 3000 euro d'anticipo ti daremo il nostro kit luccicante potrai farti assumere dai comuni per spostarti continuamente alla città dove è più necessario Lavori, curve Devono tagliare le aiuole C'è una nuova rotatore da fare Tu sempre disponibile Ti sposterai nella città Lucicante e luminoso Sbrigati Domani potrebbe finire tutto Lo voglio Mi hai tolto l'eco dalle voci? Te l'ho tolto Basta Il lavoro che ho individuato io È il toglitore di eco dalle voci Scherzavo scusate Non ho resistito A parte scherzzi ragazzi Parliamo di giovani, parliamo di lavori Parliamo di nuove possibilità che questa economia italiana Non solo ci stia offrendo Ci sono appena state le elezioni europee Nuove Europa, nuove possibilità Il costruttore di sogni professionista Di cosa si tratta? Praticamente ci sono persone Che hanno la possibilità di immaginare Delle storie Delle funamboliche narrazioni Riescono a scriverle Riescono a immaginare a scriverle E poi a inserirle dentro queste pagine quadrate A volte spesso rettangolari Metterne tante Quindi una grande storia Poi una copertina un po' spessa Sopra E poi li porti in un deposito Tu puoi portare dei soldi Acquistare questo sogno consolidato in pagine Sono scrittori I libri sono Gli editori Gli scrittori I romanzi No sono dei grandi fantasisti La fiction Sono scrittori Con la fantasia Ander ti spiego Loro riescono a immaginare delle cose Le scrivono E poi tu le puoi leggere Poi le vendono Esatto Grazie agli editori Sono immaginate loro Non tu capisci Sono i romanzi Sono gli scrittori Sono lavori che esistono Ci tiene comunque Ad aver ragione Però posso dare il beneficio del dubbio Possono essere anche sceneggiature Sono costruttori di sogni professionisti No sono scrittori L'hanno immaginate loro le cose Sono sogni loro O sceneggiatori E se non te la pianti Ti metto pure l'eco No no I lavori del futuro In servizio pubblico Dai giovani Hai mai pensato Quante possibilità Ti aspettano là fuori?